Molte persone che chiedono il mio aiuto per superare le sfide che vivono con il cibo pensano che i loro problemi alimentari derivino dalla mancanza di forza, di volontà. Pensano di non avere la costanza e la disciplina necessarie per raggiungere i loro obiettivi di salute, equilibrio e armonia con il cibo e il proprio corpo. Se anche tu ritieni di essere la causa delle tue difficoltà con il cibo continua a guardare questo video perché ciò che sto per condividere ti aiuterà a eliminare i sensi di colpa e l'impotenza che potresti provare in questo momento. Ciao sono Nani Azzaro, sono psicologa e trainer di Mindful e Intuitive Eating. Guido coloro che vivono con difficoltà l'alimentazione del proprio corpo a liberarsi dalle diete e a sedersi a tavola senza ansie e sensi di colpa e a guardarsi allo specchio con il sorriso. E se questo è anche il tuo desiderio allora iscriviti a questo canale cliccando sul bottone che trovi di sotto. Se pensi di essere tu la causa della tua alimentazione sbilanciata sappi che questa è una credenza sbagliata e fuorviante ed è frutto dei condizionamenti della cultura della dieta che vuole farti credere di essere tu il problema per nascondere il fallimento delle diete come soluzione per avere un'alimentazione sana e stare bene nel proprio corpo. Questa falsa credenza ti allontana dalla vera causa delle tue difficoltà con il cibo e di conseguenza anche dalle azioni davvero efficaci per ritrovare quel benessere con il cibo e il tuo corpo che desideri. I comportamenti alimentari non salutari come il mangiare in eccesso, l'abbuffarsi, il vivere ansia per i pasti e sensi di colpa dopo aver mangiato, sfogare stress ed emozioni sul cibo e aggiungi tu quello che ti riconosci in te sono espressione di un blocco mentale che agisce in te senza che tu ne sia consapevole. I possibili blocchi con il cibo sono tre e ogni blocco nasconde il vero ostacolo che ti sta impedendo di avere equilibrio e serenità con il cibo e il tuo corpo. Vediamoli velocemente insieme. Il primo blocco è il perfezionismo. Inseguire una perfezione alimentare attraverso regole rigide su cosa e quanto mettere nel piatto, credendo che solo attraverso il controllo sia possibile gestire alimentazione e peso. Ma in realtà è esattamente il contrario. Tutte quelle regole diventano insostenibili nel tempo, aumentando le ossessioni e le ansie che portano a vivere i pasti non come un piacere ma come un esame da superare ed espongono ad abbuffate e sovralimentazione. Il secondo blocco sono le restrizioni. Limitare la quantità di ciò che puoi mangiare e vietarti alcuni cibi con la speranza di poter raggiungere o mantenere il tuo obiettivo di peso o di forma fisica. In realtà è ampiamente dimostrato che le restrizioni sono la prima causa di abbuffate e mangiare in eccesso. E purtroppo alimentano anche ansie e paure per alcune categorie di alimenti, aumentando così i conflitti con il cibo. Il terzo blocco sono gli automatismi. Tutto ciò che ti porta ad attivare il pilota automatico, come ad esempio la distrazione mentre mangi, ti impedisce di essere consapevole di ciò che fai, dei messaggi che il tuo corpo ti invia e dei tuoi bisogni fisici ed emotivi. E quindi anche di regolare il tuo comportamento con il cibo in base alle tue vere necessità, ritrovandoti anche a mangiare senza neanche accorgertene. Ognuno di questi blocchi che ti ho brevemente accennato mantengono la persona all'interno di un circolo vizioso di comportamenti di cui non sempre si è consapevoli e che allontanano dall'obiettivo di libertà e di serenità con il cibo e il corpo. Capire quindi dove hanno origine le tue sfide con il cibo e i tuoi vedi ostacoli è fondamentale per avere chiaro quali sono le azioni da intraprendere per superarli. Se vuoi smettere di sentirti impotente e bloccata o bloccato in una situazione senza speranza, sappi che è arrivato, sblocca il tuo rapporto con il cibo. Un percorso pratico di Mindfulity che ti accompagnerà passo passo a liberarti dal tuo blocco in tre settimane. In descrizione qui sotto ti lascio il link per scoprire tutto sul percorso e per iscriverti. Non aspettare oltre e approfitta dell'offerta lancio disponibile fino a venerdì 6 dicembre. E io ti aspetto nel percorso per iniziare insieme la tua trasformazione.